È stato un bellissimo confronto con i gestori e con i forni di tecnologia. Credo che è una giornata che è servita tantissimo perché per noi di Siemens a chiave vincente è creare un ecosistema e da qui tirare fuori innovazione. L'acqua è un problema ma se lavoriamo tutti assieme possiamo trovare tante soluzioni. Grazie a tutti.